ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo anche oggi ci guardiamo un po dei vostri video eccoci qua con un'altra puntata estiva calura cicale sole 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 tigre tutto quello che volete e non poteva mancare un episodio con i vostri video e vostri simpatici orologi quindi bando alle ciance e guardiamoli subito no non guardiamo subito prima vi devo dire che per partecipare dovete mandare il video in orizzontale massimo sette minuti spigliato conciso lo caricate su itransfer.com e poi lo inviate al mio indirizzo email e poi prendo visione di pubblico vi ricordo anche l'orologio del giorno che oggi è una particolarità oggi è il mio bellissimo omega speed master professional 42 mm calibro 3861 con scappamento acquassiale che qui vedete con il cinturino estivo ossia con questo nato simile elegante che me lo rinfresca me lo fa stare bene al polso soprattutto perché poi lo porto in palestra per calcolare i tempi di recupero un minuto puffo gli do il via lo sto sfruttando un mucchio come si suol dire e con il cinturino nato è più comodo soprattutto è lavabile lavo il cinturino nato dal sudore e siamo a posto ok adesso diamo un'occhiata ai vostri videini e guardiamo un po cosa ci proponete fuoco alle polveri ciao davide ciao moreno da rovigo moreno fai un po vedere moreno che qua vedo che c'hai dei ritagli di giornale come i miei e io sapete che faccio la collezione dei ritagli di giornale delle pubblicità longin dei tempi che furono eccolo ecco fatto questo qua in basso a destra questo qua in basso a destra è l'ultimo acquisto che ho fatto cioè c'è la pubblicità di quei quattro orologi lì e il secondo il secondo da da la sinistra quello con il quadrante nero è il mio ultronic ho trovato il ritaglio di giornale con la pubblicità del mio ultronic che io ho acquistato come fondo di magazzino esattamente quello lì c'è la referenza c'è tutto c'è la pubblicità c'è anche il costo in lire così come gli altri questa qua centrale non ce l'ho quella della ferrari non ce l'ho sono tutte pubblicità le altre che mi mancano che mi farebbero piacere nella mia collezione chiaramente se me le vuoi mandare se i regali sono bene accetti poi ci sono gli orologi e laggiù ci sono delle delle figurine figure action come si chiamano figure action le manichini dei bambolotti poi vediamo cosa sono non lo so devo farti vedere la mia piccola collezione di longin anche io sono un appassionato di questo marchio però non sei tu però faccio vedere subito l'orologio che mi ha fatto diciamo innamorare di di questo marchio c'è il longin non si vede questo longin nel 1972 non si vede al movimento 66 31 e sarebbe un 28 mila e 800 alternanze 66 sono state ridotte ma l'ho trovato fondo di magazzino quindi sono stato fortunato però quando l'ho visto l'ho preso subito e me ne sono innamorato da lì eccolo lì è partita tutta la mia la mia voglia di collezionare longin e non solo perché ho anche molti altri orologi ma ma oggi ti faccio vedere solo i longin si la devi metterla a fuoco perché sennò io chiudo secondo longin è questo mette a fuoco in fondo poi si è lento da perché perché siete così ultronic c'è anche l'ultronico guarda il mio bello io c'ho quadrante blu con l'argentato ecco fatto tutto originale una sprizza sprizza anni settanta tutti i pori ecco c'era più blu bello bello è un orologio che volevo in collezione un po delicatino infatti io tengo la corona sempre anch'io estratta perché ho paura di romperlo perché è un movimento un po particolare non so se riesco a farvelo vedere bene comunque più lontano di vista questo è il mio secondo non sono ballassi in tassi in tassi in tassi e questo 12 68 z tutto originale con una logata diciamo quando l'ho visto con tutti i numeri arabi da lui dall 1 al 12 ho detto questo lo prendo perché è proprio era un po particolare quindi lo volevo in collezione ed è l'ho fatto revisionare marcia benissimo ebbe bello orologio ce l'ho anch'io però non con gli accenti di cavo è un 37 mm quindi è abbastanza grandino quindi riesco a portarlo bene al polso sì ma sta cosa di portarlo bene al polso non ha senso perché se sono orologi da collezione che li collezioniamo a me che mi stiano bene al polso non mi stiano bene al polso se mi piacciono se mi sono interessanti per la mia collezione li prendo li metto lì poi 34 35 ce l'ho anch'io da 32 mm non è un problema sta bene al polso ma lo faccio star bene non ti preoccupare ecco una cosa che volevo dire riguardatevi i video prima di mandarli perché il fuoco va e viene va e viene va e viene è fastidioso io lo sto guardando perché sono interessato particolarmente a vedere questi lungini ma se fosse stato un altro video l'ho avrei chiuso e avrei passato oltre perché non si può il fuoco va e viene va e viene deve stare un pochino più distanti non è che più vicino vai all'obiettivo è meglio che nella ripresa c'è una distanza minima da tenere poi poi al giro del tavolo ho visto la tua la tua la tua acquisizione bravo e questo longin 490 il tuo è completamente in acciaio io l'ho trovata laminata laminata oro era un po ma ridotta e l'ho voluto restaurarlo non toccando il quadrante ma con laminatura nuova la corona l'ho trovata allogata non so se si vede si è più o meno si è quella lì e gli ho messo questo cinturino verde verde secondo me ci sta benissimo si però non sembra verde sta bene si dava bello questo orologio e fa parte della mia collezione adesso è certo mi cade la mia poi allora ho preso questo che è di più recente più recente è del 2009 ma lo volevo in collezione perché comunque tra i vintage è difficile trovare un quadrante nero io l'ho trovato e si ma non è vintage e l'ho voluto tenere l'ho voluto prendere in collezione si monta l 633 però diciamo devo cambiare il cinturino perché questo non mi piace infatti ti chiedo secondo te che cinturino posso mettergli penso di andare su un nero si un nero coccodrillo nero guarda ti dico così o lucerto la nera lucerto la nera lucerto la nera nero coccodrillo forse comunque alligatore l'orologio è stupendo certo però non è un vintage che ne pensi fa secondo te questo orologio sfigura no messo assieme con con gli altri vintage no non sfigura no non sfigura è un bello orologio l'ho sempre parlato bene quella 35 mm questo non ricordo sarà anche da 38 non lo so però stai facendo vedere la collezione di vintage poi mi ci butti dentro un orologio contemporaneo ci sta bene ci sta bene per l'amor del cielo ma ormai mi ero mi ero ingazzurrito a vedere vintage ecco questa è la mia domanda poi anche questo lady o simpatico molto bello carino si lo indossa la mia signora è come un braccialetto alla fine molto bello adesso non ricordo il movimento ma è un bell'orologino da certo un bell'ongino è certo l'ongino sono sempre bello ecco questi sono i miei orologi l'ongino vintage manca manca questo qua se ce l'ho in riparazione ce l'hai bravo bello questo qua piacerebbe anche a 4 piacerebbe anche a me questo se vedremo un attimino di fartelo vedere appena appena mi arriva ecco questo qua cos'è questa è un po la mia raccolta di ultroni che io c'ho questo qua città anche io c'è anch'io ciao grazie ciao grazie a te sono belli oggi i ragazzi c'è poco da fare se uno è appassionato di vintage di l'ongin vintage qua ci perde gli occhi infatti io anch'io sto facendo la collezione di ritagli di giornali delle pubblicità 70 80 sono belli perché poi vedi anche si capisce anche il modo di la comunicazione come è cambiata negli anni il tipo di pubblicità come come si esprimevano gli termini che usavano poi le pubblicità c'erano i prezzi per esempio c'è il numero di referenza con i prezzi in oro non in oro cosa che adesso non mi risulta che nelle pubblicità degli orologi ti ci mettono i prezzi come fosse un catalogo invece dice è utile anche per quello no anche per vedere le sponsorizzazioni la ferrari gilville neve con la scritta longin sul casco simpatico ti do noto la collezione perché sono empaticamente legato a te proprio perché facciamo praticamente la stessa cosa quindi un bel lotto te lo do anche se non è numerosa però tutti i begli orologini quello che ti video maggiormente diciamo di 68 z ce l'ho anch'io l'ultronica ce l'ho anch'io è quello con il calibro 66 xx quello praticamente l'ultracron con le 28800 alternanze poi lì mi farebbe comodino farebbe da comodino a casa se vuoi mandarmelo siamo qua che aspettiamo prossimo video ciao davide sono stefano da brescia stefano e volevo presentarti che tovaglia la mia piccola collezione che tovagliai neofita diciamo da appassionato da pochi anni o 30 anni e anche grazie ai tuoi video ho iniziato a appassionarmi al mondo dell'orologeria bravo però partirei prima da due quarzoni e quarzo o meglio quarzettini visto che questo è un casio che secondo me chiunque dovrebbe aver avuto almeno una volta nella vita carino l'ho rotto l'ho buttato via fa il suo questo invece citizenico drive ogni tanto lo indosso ancora al lavoro il primo orologio che un crono primo orologio che ho acquistato con il primo stipendio quindi comunque ci sono ci sono affezionato affezionato primo orologio automatico che che ho comprato prima ovviamente di diventare un fedelissimo del tuo canale meccaniche veneziane nereide è un orologio che al di là della storia dell'azienda eccetera che può essere discutibile a me piace molto anche il fondello inciso eccetera quando lo indosso comunque me lo me lo guardano tutti e mi fanno anche i complimenti a 42 mm ci capiscono tutti mi sta mi sta molto bene al polso e evviva evviva carino carino elegante fa il suo secondo meccanico un micro brand come potrei notare va più avanti sono appassionato di micro brand vertigo ecco medusa un 300 metri che il mio il mio diver poi d'estate ovviamente gli cambio il bracciale gli metto un cinturino nato così sono sicuro di non perdere l'acqua il fondello bellissimo io sono molto legato a medusa quindi è un orologio che mi rappresenta molto sembra un po incompleto questo orologio sembra che si sono dimenticati di fargli che ne so boh le cornici agli indici le cornici alle alle sfere sembra un po così naif è un 41 e mezzo mi sta molto bene al polso un po solo 17 bravo primo un orologio che forse apprezzerai cacchi field mechanical 38 millimetri conosciamo tutti sabbiato molto carino e col suo nato un bel field watch bravo se si che sai l'inglese penultimo o meglio ultimo della della collection e con noi tra un altro micro brand cortina qui non si vede molto dal video perché insomma nonostante sia un iphone un po la luce quella che è ma mi fa impazzire mi fanno impazzire i richiami proprio alla montagna quindi con con i sentieri con i segni punto dei sentieri di montagna per trovare la via nei boschi 1956 che è l'anno di mio padre di nascita per cui molto simpatico mi rappresenta anche questo è un cento metri comunque carino si impazzire l'ultimissimo invece un vintage che ho ereditato da da mio nonno se lo carichiamo così vediamo che è perfettamente funzionante lo zenith e questo zenith sporto l'avevo fatto l'ho fatto anche aprire da un orologiaio il movimento dentro è bellissimo quindi è tutto originale anche la ruggine sulle lancette la ruggine con i piccoli secondi ore 6 tutto originale anche la corona leggermente rovinata ha sostituito solo il cinturino e non ho messo uno moderno per il resto un'orologio che ricorda mi ricorda mio nonno ogni tanto quando mi vesto magari su queste giornalità lo indosso con molto piacere e niente questa era la mia mia piccola collezione spero che possa crescere tantissimo va bene da sto puntando l'idro conquest di longine sarà probabilmente il mio prossimo acquisto e come puoi vedere sono un fan sfegatato degli stati uniti come si può vedere da questa tovaglietta che mi hanno omaggiato mi hanno regalato i miei genitori dal loro viaggio di ritorno da yellowstone ciao a tutti gli amici del canale tovaglietta che ricorda i nativi americani ok ora ci siamo l'alce nero alce nero ecco che il grande capo indiano alce nero vabbè da già una collezione con un bel emilton meccanico la carica manuale un bel vintegino zenith e tre micro brand vertigo meccaniche veneziane si sembrava ecco noi tra vertigo e con noi da e ti diamo un bel 7 bel 7 te lo meriti se è il classico neofita che però per essere un neofita va a spendere i soldi nei micro brand o nei brand minori che quindi è anche come dire è un onore al merito voglio dire no non tutti specie agli inizi si lanciano nel spendere dei soldoni mille euro così su un marchio magari sconosciuto si orologi fatti bene belli orologi sconosciuto uno magari deve fare uno scalino in più no invece te ti ci sei riuscito il voto te l'ho dato non ricordo mi sembra di sì quindi saluti baci ciao davide ciao buonasera buonasera a tutti gli amici del canale ma ci stai per lasciare sono arald di roma vi seguo più o meno da cinque mesi ne sono più o meno in questo mondo da sette otto mesi cinque mesi e niente cominciamo vai eccoli quanto questi due casio sono gli orologi che uso per andare a lavoro nessuna pretesa ma perché parlate così piano sembra che vi state nascondendo da qualcuno cioè se dovete fare dei video così di nascosto non fateli non fateli quando fate un video parlate ad alta voce siate spigliati no dite bra bli blu bla no così quanti quanti neri da assassino da serial killer nascosto a parlare sottovoce poi due ciofec massimo resa questi sono stati fondamentalmente a bagno con i solventi con le vernici bene dovevano morire tutto e per tutto e ancora funzionano peccato nessun orologio riesce a durarmi quanto questo questo non so manco quanti anni di batteria ha già ma sta per morire e ancora va nessun orologio mi ha durato quanto questo allora questi due li ho presi in tentativo di rimetterli a posto quarzoni erano messi molto molto male quando li ho comprati quando li ho acquistati sono uguali e ho cercati di risistemarli al meglio hai le competenze di dargli la satinatura questa qui dietro di rimetterlo il più bellino possibile anche per imparare qualcosa sulla satinatura bracciale sulla lucidatura del vetro perché era veramente veramente messo male anche questo non scherzava ma non era come questo precedente questo qui ci aveva maggiormente il bracciale un po rovinato a parte sotto che sono riuscito un po a salvare meno male da diciamo amici 10 sono buttato su questi perché essendo al quarzo ovviamente li ho smontati tutti comunque non rovinare il movimento ma con un manuale non ci sarei scusa con uno a carica manuale non ci sarei riuscito ad andarci con la stessa fiducia ma che è stato il mio primo rovinato a carica manuale anch'esso era placato in oro mamma mia che schifo cosa hai fatto ho fatto riuscire fuori l'ottone ma fa schifo ho levato la placatura ho fatto riuscire fuori l'ottone perché scusate perché mi piace molto il fatto che l'ottone con il tempo si crea questa sorta di patina che cambia un po il colore e prendi una roccia di bronzo no ho appena finito di lucidare lucidare di pulirlo perché ho rifatto il rosso con lo smalto con lo smalto lo devo ancora lo devo lucidare in realtà per darle un pochettino di in più a questi pallini qua che sennò non riflettono bene la luce una cosa mia ho comprato questo questo cinturino in pelle verde verde l'originale sarebbe questo anche questo ho cercato di salvarlo però alla fine non mi convinceva per niente la cassa diciamo così l'ottone questo in questo colore proprio ci si adattava bene ma tutto mangiucchiato tra l'altro da quello che ho capito questo sarebbe un osvok è ovvero quelli che hanno fatto in svizzera per il mercato europeo come correggetemi per favore se sbaglio come svizzera è vostro comandischi si vede dal logo che ha questo è un banale mai banale sono molto belli però vostro comandischi ma come l'ha fatto in svizzera non ho capito trooper non lo so mi tiro indietro infatti in svizzera adesso ho il mio ultimo orologio è l'ultimo arrivato è anche quello più bello automatico ti faccio solo sapere che la scatola non è la sua purtroppo sto acquistando però la scatola originale quindi qua vediamo orient molto bello adesso ti faccio vedere perché non è la scatola originale orient star modern skeleton non mi ricordo bene se il il movimento è f4 è lo stesso è lo stesso è la notte questo orologio mi ha colpito dal momento in cui l'ho visto sia per il quadrante perché ha tutta la sua bellissima meccanica in vista ma anche perché diciamo è molto elegante come orologio elegante secondo te molto molto bello molto molto bello si diciamo ci sta orient star non si smentisce no bene che molti diranno che alla fine semplicemente un eccolo qua un f6 f4 cos'è la basaglia navale molti diranno che semplicemente un seiko perché è stato assorbito acquistato chiamatelo come lo volete da seiko epson epson il gruppo però io sono molto 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 contento di questo acquisto e niente ragazzi grazie per la vostra pazienza scusate la mia difficoltà a riborgermi al pubblico e niente avete una bellissima serata se non siete iscritti scrivetevi diventate più belle ciao 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 io sinceramente non capisco alla fine detto che sei stanco a questo punto della giornata presumo sia notte parla sottovoce con una cantilena una lentezza tale che ribadisco piuttosto che fare un video in condizioni fisiche no come queste non fatelo video non farlo cioè dice no non ce lo vogliono lo faccio non c'è la pistola puntata per farlo il video per forza sono stanco faccio il video perché poi parli lento una cantilena poi hai rovinato un sacco di orologi ti sei messo a fare il grattugino sugli orologi al quarzo anche quelli che quello che gli hai tirato fuori l'ottone il comandis che pensi secondo le tue parole hai fatto un lavorone è una ciofecata no brovrio è venuto fuori bracciale lo stesso l'ha lucidato l'ha grattugiato 4 4 4 per sia per l'esposizione per il video per gli orologi che poi quello che era l'orologio di punta alla fine devi comprare anche la scatola originale perché mi raccomando era l'oria star con il quadrante scheletrato con il calibro f4 f6 affondato cioè sembrava una battaglia navale ma ci siamo un bel 4 così mi tolgo anche la soddisfazione di dare un 4 non me ne volere continua a seguirmi disiscriviti fai quello che vuoi ma ragazzi ansia può dai prossimo video ciao davide sono luca da bologna ti presento parte della mia collezione vado le cerce partiamo subito oh c'è anche le scritte congine conquest oversize datato 72 e 74 non sono riuscito a essere più preciso ma è la cassa cassa in acciaio in buone condizioni quadrante molto segnato dal tempo mi piace fondello chiaramente non originale mentre dovrebbe esserlo la corona come fondello non originale perché stiamo negli anni 70 con questo zenith defy acquistato all'epoca da mio padre ancora completamente originale compreso il suo cinturino in acciaio integrato passiamo ora un quarzon anzi a un quarzetto viste le dimensioni contenute dell'orologio ivc porsche design ocean titanium completamente in titanio bello mi piace bracciale integrato anch'esso in titanio che è per me la parte più interessante o perlomeno quella che più interessa me con le sue maglie pari da un lato e a forma di ondina da quella carino mi piace bravo belle belle riprese bravo ti un po di corsa fino a qui mi prendo un po più di tempo per questo perché ti presento il mio primo vero grande amore il primo orologio serio doxa sub 5000 t sea conqueror shark hunter con me dal lontano 2007 epoca in cui effettivamente studiavo per diventare un diver professionista poi un infortunio i casi della vita e la mia carriera ha virato molto lontano da lì tuttavia l'orologio resta con me e ci resterà per sempre condizioni è stato indossato ininterrottamente per anni fino a che non ho preso altri orologi al solo scopo di dargli un po di tregua all'inizio è un orologio tecnico per diver presenta la helium release valve per ventilare all'esterno i gas in in espansione in fase di decompressione e non esplodere sotto pressione e il cinturino adattabile per poter essere indossato sopra la muta abbiamo gas in espansione e in particolare l'elio perché questo è il 5000 t quindi è garantito in profondità fino a 5000 piedi che sono più di 1500 metri e quindi è inteso per essere utilizzato in saturation dive cioè di immersioni in saturazione abbiamo nominato il nome dell'orologio per un attimo 5000 t finiamo la spiega sul resto del nome perché molto lungo shark hunter si riferisce semplicemente alla coronazione nera mentre sea conqueror è un piccolo omaggio di doxa a un suo precedente modello che è il conquistador che qui possiamo vedere in compagnia del marchio synchron in quanto un tempo sotto questo ombrello erano compresi più marchi compreso appunto doxa e per esempio anche acquastar ci stiamo adesso dagli abissi marini all'orbita terrestre con il brightling navi timer cosmonaut carica manuale l'anno è lo stesso 2007 anche se io l'ho comprato di secondo polso nel 2016 quadrante da 24 ore richiesto esplicitamente dall'astronauta scott carpenter per la sua missione sul mercurio atlas 7 allo scopo di evitare di confondersi tra mattina e pomeriggio nel suo orario missione breve intermezzo tra due grandi orologi facciamo entrare la cafonata cyrus kuros questo è completamente in titanio ed è notoriamente scomodo da indossare è pieno di angoli spigoli non è piacevole da avere sulla pelle è brutto come la fame e voi adesso vi chiederete perché l'hai comprato io vi dirò buona domanda a cui francamente non ho una buona risposta di farci gli occhi che è meglio eravamo rimasti in orbita adesso ci spostiamo direttamente sulla luna con l'omega speed master dark side of the moon referenza del 2015 orologio che ci ho messo tanto tanto tempo a raggiungere coronando lunghissimo inseguimento cassa e quadrante in ceramica di ossido di zirconio doppio vetro zaffiro lancette moon watch in oro bianco e scusate la remoscia ma adesso dovrei dire che la scala tachimetrica è in nitruro di cromo opaco non si può sentire alibro classiale omega 9300 veniamo ora un brand che ben conosciamo sul canale oris artx collezione cultura scheleton brutto siamo ora un orologio visto da me per la prima volta su questi stessi schermi samurari davide che lo presentò insieme alla nuova collezione seiko prospects limited edition shoe hero tecnicamente lo conosciamo cassa in acciaio inserto della ghiera in ceramica vetro zaffiro dedicato alla marina militare giapponese soigun l'highlight però è il quadrante rosso vermiglio appunto shoe hero ispirato a qualcosa di più antico della marina militare ispirato ai clan costieri di samurai che indossavano armature rosse vediamo ora l'ultimissimo arrivato arrivato da talmente poco questa video presentazione adesso si trasforma in un unboxing o smr asciutto finalmente come si sarebbe capito è un reservoir piccola casa svizzera con origini francesi caratteristica principale del reservoir è quella di trarre ispirazione da quadranti di cose che orologi non sono come tachimetri profondimetri altimetri e via dicendo esistono tre linee una basata sulle macchine una basata sui sottomarini e una basata sugli aerei si è già capito che tutto ciò che è subacchio mi sta a cuore tuttavia c'è un'altra cosa che amo e sono le macchine introducing il reservoir super charge red zone cassa in acciaio cristallo zaffiro monta un calibro reservoir anzi pardon rsv 240 brevettato della casa che in realtà fatto sulla base la jupe re gesante con tre complicazioni infatti ha le ore saltanti che sono indicate qui i minuti metrogradi e la riserva di carica che in questo caso è chiaramente ispirata all'indicatore di livello carburante accendiamo fino a 60 minuti ora vediamo cosa succede bello mi piace soddisfazione giochino potrei e forse ci starò tutto il giorno ma non mi coinvolgerò in questa mia perversione bene siamo ai saluti un grazie a tutti i membri della community in particolare al nostro host davide un augurio davide mentre registro questo non sei lontano dai 100 mila che ti auguro di raggiungere in fredda e come dicevo un noto giornalista locale della mia zona state benone saluti a baci invece io dico bravo ti do un bellotto questa simpatica collezione anche l'esposizione la passione che ci metti tutti eroggi strani particolari è però diciamo che dai vintage per passare per poco visti poco visti sicuramente loris è scheletrato che piace non piace il doxxas di 5000 ti mai visto in prima volta che lo vedo e poi l'ultimo qua c'era rispetto che dei soldoni è l'ultimo orologio del reservoir reservoir è particolare nel senso che tutto il top tecnicamente vedere quelle cose lì l'ora saltante la lancetta retrograda la riserva di carica tutto quello che ti parla a te mi appassiona mi affascina no stress io starei a guardarti te che sei tutta la giornata lì a fare avanti e indietro contento te contenti tutti però non lo comprerei mai perché lo ritengo brutto è brutto per me cioè non so andrei in giro con un orologio così certo che se avessi 127 orologi tutti di pregio e a un certo punto 128esimo di comunque cosa minchia prendo e mi prendo questo qua così un po un po circa orfei hai capito però comunque complimenti per gli orologi per la passione e per l'esposizione si capisce che hai fatto un montaggio tu per tagliare delle parti per rimanere nei 7 minuti perché sicuramente è andato a sforare nei 37 minuti e oltre perché sentiva che sono i tagli comunque cosa non si fa per essere pubblicati questo ragazzi io direi di finirla qui devo andare a vedere gattini su instagram che mi piacciono tanto perlomeno loro sono normali e non sono strani come quest'ultimo orologio loro sono normali bellosetti saltano miagolano la cuota dritta a volte adrizzano il pelo e ci divertiamo a guardarli io vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica